allora eccoci buongiorno ci troviamo in vico di coccagna nelle immediate vicinanze di via vecca nel pieno centro di genova in questo meraviglioso appartamentino completamente ristrutturato che adesso vado a mostrarvi dalla porta blindata dietro di me accediamo subito nel cuore dell'immobile quindi un grande locale come vedete aperto in cui trovano spazio una bella saletta su misura completamente accessoriata con divano una cucina anch'essa su misura dotata di tutti gli elettrodomestici e piastra induzione tutto a nuovo e il letto a vista ci vengo a sottolineare come vedete che pur essendo completamente arredato l'immobile mantenga sempre un certo spazio comunque non dando mai una sensazione ecco di claustrofobia successivamente troviamo il bagno anch'esso completamente ristrutturato completo senza nessun lavoro sostanzialmente da fare parificabile nuovo le soluzioni sono di salva spazio e qualità poi uno dei jolly dell'appartamento è un vano sotto scala al momento è da personalizzare si trova qua sotto dove è possibile sostanzialmente utilizzarlo al momento come dispensa ma anche eventualmente come eventualmente come sala hobby è qui sotto e gira anche tutto a destra quindi c'è comunque un buono spazio anche sotto scala da recuperare una soluzione in più sicuramente gli appartamenti con questa metratura sono sono ottimi completano poi l'offerta la presenza dell'area condizionata che vedete in alto sul sul tetto e la connessione internet a banda a banda larga il riscaldamento è termo autonomo le spese di amministrazione sono contenutissime e tali caratteristiche ovviamente unite alla posizione strategica siamo nel centro di genova alla vicinanza all'università agli uffici agli uffici alla stazione metro bus alimentari rendono comunque l'immobile un'ottima opportunità di investimento anche soprattutto utilizzare come bed and breakfast o contratti di natura transitoria abbiamo poi la possibilità del posto auto in locazione o in vendita ecco la panoramica dell'appartamento direi che la nostra vita si può concludere grazie a tutti grazie a tutti